Giovedì 21 novembre, buona giornata a tutti dalla redazione di Udinese TV. La nostra prima diretta del mattino incomincia come al solito per raccontarvi le prime pagine dei quotidiani nazionali, gli approfondimenti di cronaca, lo sport, il meteo e il traffico. Partiamo con ordine, partiamo dando un'occhiata come si sta risvegliando la nostra regione reduce da una continua andata di maltempo. Ieri c'è stata la tregua, stamattina qualche goccia di pioggia e le previsioni annunciano per il fine settimana ancora precipitazioni abbondanti. Qui siamo sull'altipiano del Montasio con lo scatto che ci mostra la neve accumulatasi sulle vette e poi ci spostiamo sul borgo del Lussari, anche qui ancora le luci che illuminano il borgo tarvisiano e la neve che fa capolino. E poi ancora andiamo a Tarvisio in piazza Unità, nuvole sullo sfondo della chiesa tarvisiana e asfalto bagnato per la pioggia caduta nel corso della notte. Facciamoci raccontare dunque dalla nostra Elisa Febbo le previsioni per oggi. Ben ritrovati alle previsioni meteo del Friuli Venezia Giulia di giovedì 21 novembre. Cielo in prevalenza nuvoloso, con probabili piogge sparse, in genere moderate. Possibili locali rovesci temporaleschi, specie tra costa e pianura. Quota neve oscillante tra 1.300 e 1.600 metri. Temperature Sulla costa le minime saranno comprese tra i 10 e i 13 gradi, le massime tra i 13 e i 15 gradi. In pianura le minime saranno comprese tra i 6 e i 9 gradi, le massime tra i 12 e i 14 gradi. A 1.000 metri 6 gradi, a 2.000 metri meno 1 grado. Grazie a tutti e a domani con le previsioni. Andiamo a dare un'occhiatura alla situazione in autostrada con il sito Info Viaggiando di Autovie Venete. Vediamo che la situazione sulla A4 tra Venezia e Trieste non presenta particolari problemi. Ci sono alcuni restringimenti di carreggiata sul tratto di A23 tra Udine Sud e lo Snorio di Palmanova e poi i cantieri per la terza corsia tra Palmanova e Porto Gruaro. Nessun problema sulla A28 così come sulla A34. Questo dunque è il quadro della viabilità. Prima di andare sulle pagine dei quotidiani, una notizia dell'ultima ora con i carabinieri che hanno stroncato un rilevante traffico e spaccio di droga a Conegliano con l'arresto di tre persone, tutte di nazionalità nigeriana. La segnalazione è di 130 consumatori. Il blitz dei carabinieri è scattato nella notte tra il comune trevigiano e Belluno dove sono stati ammanetati tre indagati di cui due irregolari, tutti destinatari di un ordine di custodia cautelare messo dalla procura di Treviso. L'attività di cessione di droga, secondo quanto emerso dalle indagini, era iniziata a fine 2018 e aveva trovato centinaia di consumatori provenienti anche dalle province limitrofa, quella di Treviso, nonché dalla nostra regione, dal Friuli Venezia Giulia. Durante gli arresti e le conseguenti perquisizioni nelle abitazioni dei tre straniere è stata sequestrata droga e denaro contante frutto dello spaccio. Ulteriori dettagli verranno forniti in giornata. Andiamo ora sulle pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo col Corriere della Sera che si concentra sulle ultime novità dalla manovra con l'Imu e la stretta su chi non paga. Pignoramenti possibili dai comuni anche per la Tasi. Sul fronte all'Italia invece è tutto da rifare. Il via libera da Bruxelles, ma c'è richiamo sul debito, salva Stati, Conte a Salvini. Hai votato anche tu nuove polemiche e scontri tra gli ex alleati. Gli esteri, l'ambasciata che incastra Donald Trump sul caso Ucraina e ancora le immagini a centropagina del violento rogo dell'esplosione divampata ieri a Barcellona Pozzo Rigotto in Sicilia con cinque vittime e tre feriti, l'esplosione in una fabbrica dei fuochi artificiali che si stava preparando appunto nella produzione per il periodo festivo. Ancora dalla prima del Corriere, le malattie del cuore dimezzate le morti con la scienza che progredisce. Poi i dati sui matrimoni, più riti in municipio che nozze in chiesa, c'è stato il sorpasso che covava da diversi anni. Dal Corriere della Sera andiamo su Repubblica, la prima pagina, all'Italia binario morto, la scordata svanita, Ferrovie si sfila, senza Atlantia è impossibile rilevare la compagnia. Patuanelli prepara un'altra proroga, Fondo Europeo Salva Stati, Di Maio chiede un rinvio, Conte potrebbe accettarlo per evitare il voto trappola. Zingaretti teme il caos 5 stelle, così il governo rischia, intervenga Grillo. Per quanto riguarda poi le altre notizie, c'è la ministra Lamorgese che prepara i decreti sicurezza rivisti, più chance per l'asilo, ONG, via le maxi multe. Il caso Segre, la sesto dei partigiani dice no alla cittadinanza, l'antisemitismo a destra e poi ancora la tragedia in provincia di Messina, 5 morti sul lavoro nella fabbrica dei fuochi. Questa foto ci riporta a Malta con il caso di Daphne, il mandante che porta ai politici, Daphne Caruana Galizia con due dei tre figli. Nel 1988 a Malta è stato arrestato su uno yacht, cercava di fuggire, Caruana aveva scritto di una sua società. I figli indagate sullo staff del Premier. Da Repubblica ci spostiamo sulla stampa di Torino, si sblocca il salvataggio all'Italia, corre il rischio di fare la fine dell'Ilva, manovra, i sindaci potrebbero pignorare i conti a chi non paga Imu e Tari, salva stati, favorevole il tesoro, ma Conte si oppone al via libera all'Unione Europea. A centro pagina la foto, Torino al centro della tratta degli schiavi tra Asia ed Europa, i migranti costretti a pagare fino a 8 mila euro per raggiungere il vecchio continente. E poi ancora le altre notizie, mistero sulla caduta del drone italiano in missione in Libia, a Messina esplode la fabbrica di fuochi d'artificio, 5 le vittime. Dalla stampa al fatto quotidiano a centro pagina, così Marchionne si comprava ai sindacati americani, scandalo mondiale all'ombra di Obama, la General Motors fa causa alla racket di FCA, Sergio, lidiatore dell'attività fraudolenta, tre ex dirigenti del gruppo hanno già confessato. E poi ancora il PD, prescrizione sarà crisi, molti tentati dalla legge di Forza Italia e soldi alla Lega, Genova indaga sulle 14 operazioni sospette, certamente i suoi flussi di denaro in orbita verde. Andiamo sul Sole 24 ore ora, con i temi economici e le spine del governo, l'Italia ha tutto da rifare e il va nel vicolo cieco. Tra crisi e salvataggi il CDA di Ferroviello Stato decide appunto di non impegnarsi per la compagnia di bandiera, ex Silva, ancora Conte che cerca la mediazione. La guerra delle etichette alimentari poi, con l'Italia che sfida la Francia, a Bruxelles tra parmigiano, affettati e olio. E poi ancora, nuovo salvatati, banche in allarme, visco, non c'è intervento sul debito. Continua la nostra carrellata, ci spostiamo sul giornale. Sono pure ladri, pignoramenti facili, emendamento shock, prelievi forzosi a chi non paga IMU e multe manovra, l'Unione Europea non crede all'Italia, acconti a rischio, Forza Italia, non solo ILVA, oltre 200 le crisi aziendali nel Paese. Il caso dell'ex ministro Trenta, le bugie sulla casa, il cagnolino con la scorta, la parabola dell'ex ministra. E poi Di Maio, il provinciale sulla poltrona degli esteri, concentrato solo sulle beghe italiane. All'Italia, slitta l'offerta, ferrovie in campo, ma i Benetton frenano, e poi i migranti, aria di sanatoria, ma i più multe alle ONG. Ci spostiamo sulla verità, il quotidiano di Maurizio Belpietro, i misteri della casa di Lady Imps, chi gestisce le nostre pensioni, dopo essersi assegnata a un mutuo proibito, la direttrice generale si è fatta ristrutturare l'abitazione. L'architetto era un suo sottoposto, i lavori, 250 mila euro, eseguiti da una ditta, che poi ha ottenuto dall'ente appalti per un importo analogo. E ancora 30 senza lode, bugie sull'affitto, il cane scarrozzato con l'auto blu. Sul fondo salvastati, Conte fa il kamikaze, Tremonti, il nuovo MES nasce per salvare Deutsche Bank per noi, è un suicidio in campo, oppure l'associazione bancaria, se passa non compriamo più titoli di Stato. E c'è lo scontro tra il Premier e Salvini. Andiamo su Libero. Così la sinistra si aggrappa a Suorra Sardina, non sa a chi votarsi, la monaca che ama banche e rifugiati, fa la militante nelle piazze che odiano Salvini. Si ritorna sulle proteste, sulle manifestazioni organizzate dai cosiddetti popoli delle Sardine, che anche in Friuli, vedremo tra poco, hanno iniziato ad organizzarsi. Ancora anche il cane della 30 riesce a dare scandalo, e le frasi razziste di Augeas dice che la destra è bestiale, la commissione segre indaghi lui. E la nostra carrellata si sposta ora sul foglio, il quotidiano di Claudio Cerasa, tra gli spunti in prima, oggi c'è cattivissimo MES, parafrasando un titolo di un celebre film d'animazione, ci si può arrabbiare con il termometro quando si scopre di avere la febbre, balle e ipocrisie, perché la battaglia sul fondo salva stati è uno specchietto per misurare l'incapacità di Salvini di occuparsi con onestà del futuro dell'Italia e dell'Europa. E poi ancora il super testimone dice che il ricatto di Trump agli ucraini c'era, il loop dell'impeachment con l'ambasciatore americano all'Unione Europea che demolisce le tesi difensive della Casa Bianca. Chiudiamo con il manifesto La macchina nel fango, Fiat Chrysler nei guai, General Motors fa causa alla rivale con l'accusa di aver pagato tangenti per corrompere l'UAV, il potente sindacato dei metalmeccanici americano, nel processo di contrattazione collettiva. Ombre sull'ex CEO Sergio Marchionne, considerato il centro dell'attività fraudolenta. E poi di taglio alto, Trump ordinò pressioni su Kiev, l'audizione di Gordon Sondland, ambasciatore statunitense all'Unione Europea. Dalle pagine dei quotidiani nazionali andiamo ai quotidiani di Casa Nostra con il messaggero Veneto che oggi apre la sua edizione sui rifiuti, quelli nei palazzi, con il business dei cassonetti. La denuncia dalle associazioni dei consumatori chiedono cifre esorbitanti per rimuovere i contenitori, i consumatori sul piede di guerra. La NET risponde, numeri del tutto esagerati. Ancora polemiche dunque sulla raccolta casa per casa Udine che la società di gestione del servizio aveva invece raccontato come tutto tranquillo. E a centropagina poi c'è la guarderiana di San Daniele che torna a far discutere il mondo della cultura sischiera sul caso della biblioteca di San Daniele del Friuli tra le più antiche d'Italia che l'amministrazione comunale vorrebbe riorganizzare e spostare. Le altre notizie richiamate in prima i funerali a Fagagna con il saluto, l'ultimo saluto a Daniele Burelli distribuiti braccialetti con l'inno alla vita. E poi a Udine quinto supermarket in Viale Palmanova ora in città sono 169. C'è il caso della bete senza punta davanti al municipio di Udine che è stato subito rimosso. E poi dicevamo appunto che anche in Friuli gli antisalvini si organizzano una nonna fonda le Sardine FWG Fedriga risponde con una diretta a Facebook protesta non spontanea. Andiamo all'interno proprio del messaggero per approfondire alcune di queste notizie e vediamo che il mondo della cultura si schiera sulla guarneriana che deve restare unita. Sappiamo che ci sarà il referendum a San Daniele del Friuli un referendum comunale domenica con le urne aperte dalle 8 alle 20 l'ultima parola aspetterà i residenti dalla Bibbia bizantina agli incunamboli il timore che gli antichi volumi vengano museificati le voci raccolte c'è chi a favore c'è chi è contro Roberto Giurano dello scrittorium foro iuliense dice la storia si fa ovunque anche nelle aree degradate il progetto va approvato. Romano Vecchiet direttore invece della biblioteca Ioppi di Udine spiega che la parte più recente cresce quando sta accanto ad una biblioteca di prestigio. Nelle pagine interne delle messaggero andiamo sull'apertura di Udine città con l'annuncio dell'apertura di un nuovo supermarket in Viale Palmanova apre il quinto lungo l'arteria di missione al centro città sono 169 punti vendita alimentari nell'Interland udinese oggi l'inaugurazione del mega nell'area ex Coca-Cola il delegato del comune troppi mega market penalizzati i negozianti dicevamo dei funerali di Daniele Burelli a Battaglia di Fagagna vedete le immagini ve le abbiamo mostrate anche noi ieri con una folla incredibile tanti amici parenti stretti in un dolore incredibile i funerali sono stati distribuiti anche dei braccialetti con un appello alla prudenza diretto ai giovani andiamo sulle pagine del gazzettino ora anzi andiamo sulle pagine del messaggero di Pordenone con l'apertura della destra tagliamento che ci racconta di una ciminiera assegata senza autorizzazione il comune che sospende i lavori per due mesi l'azienda potrà proseguire il cantiere nella nuova casa di riposo solamente al di fuori del perimetro del simbolo storico per quanto riguarda poi le notizie all'interno si parla del sopraluogo di ieri della regione con i suoi vertici Federica e Riccardi sul post maltempo aprono un tavolo per arginare le piene Federica e Riccardi dicono pronti a investire per aiutare la città intanto PN 1291 interroga sulla chiusura delle scuole dalle pagine del messaggero ci spostiamo su quelle del piccolo l'edizione di Gorizia con la prima pagina che ci fa il focus su grado altra località colpita duramente dalle mareggiate verrà risarcita alla pari di Venezia le rassicurazioni del governatore Federica anche lì ieri c'è stato un sopraluogo ai privati 5.000 euro alle attività 10.000 ma sui danni alle spiagge deve decidere Roma bastioni di Palmanova minacciati dall'acqua nel frattempo nuovi allagamenti a centro pagina c'è il Trieste Airport con il rilancio difficile stretto tra i grandi del nord-est l'inchiesta da parte del piccolo sull'aeroporto regionale che ha cercato diversi trampolini di rilancio ma i problemi per affrontare il mercato rimangono all'interno delle pagine di Gorizia l'apertura cittadina è sull'edificio di Viale 20 Settembre che resta una ferita aperta nelle mani dei privati il futuro del rudere lo scoppio il crollo cinque mesi fa lo ricorderete a giugno con il dramma dei morti e l'edificio che crollò per un'esplosione l'area sempre sotto sequestro spesi 12 mila euro dal comune per sgomberare le macerie e incombe la pista ciclabile lo ricorderete l'esplosione del 20 giugno il buato nella notte la devastazione con le tre vittime il tragico destino di Sabina Miha e Fabrizio per questo rudere interviene anche il comune dunque e sullo sfondo essendo l'area di proprietà privata non si può escludere a priori che in futuro la situazione non si dovesse sbloccare e non possa essere l'amministrazione ad intervenire per la bonifica definitiva ieri a Gorizia era presente anche la presidente nazionale di Confcommercio Sangalli che dice lavoriamo per eliminare i vizi della nostra economia così ha dichiarato Sangalli per quanto riguarda poi le pagine interne andiamo proprio su Grado e vedete alcune delle istantanee dopo il sopralluogo di ieri non solo Grado ma anche Lignano tutta la bassa friulana avviata la conta dei danni pronto il decreto del governo nuovo sorvolo della protezione civile per verificare la situazione nella bassa Fedriga con lo stato di emergenza daremo risposta alle richieste dei privati il sindaco Savino di Cervignano realizzeremo subito un intervento lampo poi lavoreremo per trovare soluzioni strutturali altri guai dal maltempo anche a Pulfero con la strada bloccata per una frana per raggiungere il borgo di Rodda mentre massi sono caduti sulla provinciale 22 a Forgaria nel Friuli questo per quanto riguarda il piccolo ora andiamo ad aprire la parte sportiva della nostra rassegna stampa con le prime pagine dei quotidiani nazionali ancora il campionato che ritorna protagonista nel fine settimana dopo la pausa per le nazionali e la gazzetta dello sport si interroga su che cosa deciderà Ibraimovic Milano-Bologna c'è una telefonata di Boban a Zlatan gli fa l'offerta per rilanciare il Milan torna a casa Ibraim incontro con l'agente Raio l'ha contratto di sei mesi allungabili a 18 per sei milioni complessivi ora la palla passa allo svedese che dovrà decidere cosa fare lo stadio si fa se il sindaco di Milano Sala apre i club ma va tutelato l'interesse pubblico ed ecco come continua l'inchiesta sul nuovo San Siro e l'intervista appunto al primo cittadino di Milano Juventus patto tra i big così Ronaldo si riprende la squadra testa già all'Atalanta esposito l'inter l'umile Lukaku mio fratellone Conte e Dio a tu per tu con il giovane Nerazzurro Sinisa lascia l'ospedale oggi va dalla sua Bologna la moglie più bella cosa non c'è così ha salutato e l'abbraccio lo vedete fuori dal Sant'Orsola di taglio basso provaci ancora Mou riparte dal Tottenham per 16,5 milioni l'anno la terza vettura in premier per Murigno che ha preso il posto di Pochettino scusate tutto sport che mercato si parla già delle trattative in vista di gennaio Juve preso Mattias Soleil 16 anni e poi c'è la battaglia tra Juve Roma e Real per Dani Olmez e poi ancora Ibrahimovic tra Mila e Bologna Tottenham ha firmato Murigno Roma in vendita James Pallotta che mercato Juve ha già portato a Torino il talento argentino Soleil va in pressi in Sudaniolmo spagnolo della Dinamo Zagabria seguito da mezza Europa Ibra si muove il Milan Mou firma 17 milioni e mezzo stagione non tornano un po' le cifre tra tutto sport e gazzetta Pallotta conferma Fredrik Red della Toyota americana vuole la nostra squadra a centro pagina Conte l'incubo di Mazzarri ma Galante avverte l'Inter occhio al toro quando Gaspera della Juve sabato la grande sfida foto vintage poi Sinisa a casa più bella cosa non c'è Bologna oggi in campo MotoGP a Valencia il sigillo Yamaha sui test 2020 c'è anche l'Atletica con Crippa che dice in Africa per crescere andiamo sul corriere dello sport Ibra e Ken anticrisi Zlatan più vicino al Milan il Bologna attenta l'ex Juve Raiola nella sede rossonera adesso in Pol ma Napoli lavora in segreto con De Laurenti Giraud l'Intestudia Mandzukic è un giallo il suo futuro Cuore Mikhailovic forse in panchina e poi Ferrari e Alfa sotto indagine la Roma sul piatto Frickin vuole entrare come socio le azioni schizzano in borsa il club conferma tutta la trattativa in ballo allo stadio l'addio di pallotta che chiede un miliardo felicità Tottenham vinciamo contratto di 4 anni per il portoghese prometto al club gioia e passione infinito Reia ancora mi diverto edi continuerà a guidare l'Albania fino a 77 anni una sfida bellissima dice l'allenatore Friulano lasciamo le prime pagine dei quotidiani nazionali andiamo sullo sport di casa nostra per parlare di Udinese oggi c'è una passante con la Luca Gotti il vice che non vuole fare il capo la panchina dell'Udinese è un escursus sulla carriera dell'attuale allenatore bianconero con il passaggio dal papadino Gotti lo vedete in questa prima foto accanto a Enzo Berzotto osservatore di Milan e Inter le delusioni poi di Luca da titolare nella pianchina di Treviso e Tristina le due lauree scienze motorie e pedagogia e poi il passaggio a diventare secondo di livello con Donadoni e Sarri anche nell'altra pagina anche altre foto con Gotti che abbraccia la Europa League vinta con il Chelsea di Sarri e Gotti che guida l'Italia Under 17 tra il 2006 e il 2008 un pezzo che riassume i vari passaggi della carriera dell'attuale guida della panchina bianconera tanti gli incroci nella sua carriera Bigon suo ex giocatore lo chiamò la regina in azzurro da Citi Under 17 arrivò sul suggerimento di Albertini che lo conobbe al Milan e poi il mister che l'ha ripetuto più volte dopo Trieste pensai di lasciare il calcio l'esonero ma da lì ha deciso poi di ripartire e quello del 2009 è stato dichiarato uno dei passaggi più difficili della sua carriera il punto invece sui bianconeri in chiave Sampa certamente in vista per sé ma rischia di saltare proprio la sfida con i blu cerchiati è vittima di un problema muscolare ad una coscia lo svedese oggi si conoscerà l'esito degli esami il quale è stato sottoposto ieri è l'unico vero esterno sinistro là dove però si può adattare Larsen e in caso appunto di sua assenza Gotti dovrà lavorare alle alternative per quanto riguarda il rientro dei vari nazionali si è completato si completerà quest'oggi con una doppia seduta in programma che noi vi racconteremo come al solito i nostri appuntamenti con pomeriggio calcio per quanto riguarda altre notizie legate ai bianconeri ieri vi abbiamo mostrato la nuova griff del Pullman che porta in giro per l'Italia la squadra delle Zebrette l'accordo con Promoturismo FWG San Daniele Lignano e Grado sulle divise Sampdoria che cosa si muove in casa blu cerchiata una doppia seduta ieri con il presidente Ferrero che ha presenziato domenica sarà allo stadio nonostante la contestazione nei suoi confronti promessa dalla tifoseria sul campo Ranieri non ha trovato tutti i nazionali perché Colle e Gdall e Torsby hanno svolto sedute rigenerative mentre Murillo è atteso per oggi sempre dalle pagine sportive del messaggero andiamo a parlare anche di Pordenone con la sfida in programma sabato alla Dacia Arena contro il Perugia di Oddo riecco chiaretti il valore aggiunto del Pordenone che torna dopo due mesi l'esperto trequartista brasiliano ancora a disposizione di Tesserne lo scacchiere nero-verde può essere fondamentale parla Gavazzi VAR ai playoff ottimo ma usarla con criterio anche in serie B dunque si va verso l'utilizzo della VAR le ultimissime sul fronte formazione proprio in vista del Perugia c'è il ballottaggio tra Candellone e Ciurria per affiancare in attacco Strizzolo sembra certo ormai l'utilizzo di Epasa al posto di Burrai e rientra anche Pobega assieme appunto a Chiaretti dal Pordenone al Basket ieri vi abbiamo raccontato live la vittoria la seconda di fila dell'Old Wild West tra le muramiche del Carnera contro Imola 40 minuti di dominio totale schiantata la formazione romagnola decide già l'accelerata nel primo quarto poi gara senza storia Cortese Cromer sotto osservazione rispondono con una partita eccellente 104 a 72 il finale 47 a 28 il punteggio a metà gara con la squadra di Coach Ramagli che ha strappato gli applausi dei tifosi felicissimo l'allenatore tra realismo e felicità ci siamo rimessi in strada ma tra quattro giorni già si gioca allora andiamolo ad ascoltare al microfono di Lorenzo Paus a fine gara Coach Ramagli ovviamente non le chiedo se è soddisfatto del risultato perché è meglio di così era davvero difficile chiedere le chiedo se è soddisfatto della prestazione globale dei suoi ragazzi ai quali aveva chiesto intensità e voglia per tutti i 40 minuti sì è scontato dire di sì poi purtroppo le partite di questo tipo quando sfiniscono con questo scarto mettono in mezzo i meriti degli uni ed i meriti degli altri probabilmente il nostro inizio ovviamente ha messo un po' in difficoltà Imola che quando ha alzato gli occhi era sotto di 20 alla fine del primo quarto sapendo che ci sono tre partite in questa settimana un pochino ha tolto il piede dall'acceleratore noi abbiamo fatto le cose giuste anche e soprattutto dal punto di vista delle rotazioni non abbiamo spremuto nessuno abbiamo dato un po' più di minuti a Cromer perché ha bisogno dopo la partita non buona di domenica di fare una buona partita e l'ha fatta abbiamo bisogno di non esagerare con Fabi perché non sta ancora bene nell'allenamento di ieri e nel shooter round di stamattina si è visto e poi basta insomma direi che questa partita va archiviata in questo senso non c'è molto altro da aggiungere Molta rotazione ma soprattutto ottime risposte da tutti perché in una partita dove si è fatto il centello è facile magari immaginare un singolo che arriva a 25-30 punti invece sei giocatori in doppia cifra grande distribuzione di punti ognuno si sente importante in questa squadra io di questa squadra non ho tanto la preoccupazione di quello che facciamo nella parte offensiva perché alla fine un po' di talento un po' di qualità ce l'abbiamo quindi non sono tanto preoccupato da questo sono preoccupato più da quanto riusciamo a essere consistenti dietro e questa è una cosa che spesso ci manca ci mancano magari gli ultimi 4 secondi del possesso difensivo ci manca di prendere un rimbalzo un rimbalzo difensivo che concretizza un buon possesso difensivo ci manca prendere una palla vagante che magari scappa alle mani degli avversari oggi onestamente anche dal punto di vista energetico e della reattività siamo stati molto presenti forse aumentare le rotazioni aiuta anche in questo senso perché nessuno si spreme nessuno è con la lingua di fuori però a volte ci sono partite dove i giocatori importanti devono fare anche 30 minuti in campo queste due partite ci hanno permesso di fare rotazioni molto ampie le rotazioni dovranno esserci ancora ripeto prendiamoci il buono di queste due gare siamo rimessi un po' incarreggiata dal punto di vista della classifica però testa bassa sappiamo che già domenica ci sarà una partita difficilissima una squadra molto forte in casa sua e quindi lì dovremo con le stesse armi sapere che dovremo partire dalla nostra metà campo difensiva dal controllo dei tabelloni perché alla fine le squadre che vincono fanno così grazie mille queste le parole di coach Ramaglia andiamo a vedere dunque il quadro della situazione per quanto riguarda il campionato con il girone di A2 maschile le sfide di ieri oltre alla gara della Apple Duel West contro Imola c'è stata la vittoria di Juve Caserta contro Sansevero con Mantovana che supera Orzinuovi e poi la vittoria fuori casa di Folli su Montegranaro Ravenna che batte Rosetto Shark Verona che continua a vincere contro Ferrara oggi la sfida tra Urania Milano e Assigeco Piacenza in classifica il Verona a quota 14 guida alla graduatoria poi Mantovana e Ravenna 12 Old Wild West a 10 assieme a Forlì Ferrara e Piacenza e sarà proprio la Mantovana la prossima sfida della APU Old Wild West per quanto riguarda il suo girone ancora lo sport un passaggio al calcio di lettanti perché ieri ci sono state le semifinali della Coppa Italia di eccellenza e in finalissima il prossimo 5 gennaio ci andranno due squadre friulane Manzanese-Torviscosa la Manzanese supera il Profagagna 3-2 il Torviscosa vince a Gorizia 2-1 e saranno loro a contendersi il titolo regionale ci fermiamo qui con questa prima parte della nostra rassegna ora spazio ai servizi ci ritroviamo alle 8 con tutti gli aggiornamenti a più tardi grazie a tutti Grazie a tutti.